Tutto pronto, questa è l'artiglia tras, Totti Soccer School, AS Roma, aspettiamo solo il fischio dell'arbitro, possesso per la Roma. Bello, il cambio di gioco, cercare la grande azione della Roma, nella rite dell'1-0 a segno Viti. Ancora Cretara, doppio passo, poi provo a cambiare il gioco su Rabio che conclude col Mancino. E allora, ancora una volta Viti col tap in, 2-0 per la Roma. Guarda che a sinistra, dove c'è Zagaroni, ancora Zepinski, scambiano bene i due. Zepinski la prova a mettere per il numero 14, che non riesce in qualche modo a siglare Cretara. Il 3-0. Zepinski, bene la palla per Zagaroni, che allarga cercando a destra Morabito. Poi è bello, un bel inserimento sul passaggio dei pianigiani, la parte di Viti che non riesce a concludere. Zepinski conclude col destro. Allora, riparte l'azione della Totti Sacra School, perdono un pallone importante. E allora la rete del 3-0, segnato Viti, ancora lui, tripletta. Buona uscita la parte della Totti Sacra School. Questo è un bello fallo, ma può provarci solo davanti al portiere. Grande parata, adesso la Roma può ripartire con pianigiani, cazza la testa. Allora, rigore per la Totti Sacra School su punte battuta a Silvestri, si attende il fischio dell'arbitro, conclude col destro. È un grande gol, un grande gol da parte della Totti Sacra School. Riparte la Roma, c'era avanti, dietro Zepinski, c'era avanti. Però la conclusione, Manocci, se la trova sul destro, e poi la tocca ad Alessandro per il 4-1 per la Roma. Si prova da col destro, Farenzi. Difficile, pall'alta sulla traversa. Calocci. Ottimo controllo, allarga a destra. Conclusione col destro. Virarete il 5-0. 5-1. Allora, 5-1 per la Roma. Assegno anche Casali. Quando mancano due minuti al termine della partita, la Roma riconquista, un bel pallone, la mette in mezzo. La palla è uscita. Tra avanti, allarga a sinistra. Bella lì da Di Palocci per l'Alessandri. Che prova a concludere. Allora, sarà calcio d'angolo. Allora, batte il calcio d'angolo. Quando siamo al ventesimo di gioco. Allora, per l'arbitro. Può abbassare così. 5-1 per la Roma. Altra vittoria per il giallo e rossi. Grazie. Grazie.